Il valore di questo incontro è straordinario, soprattutto realizzato qui a Benevento. Benevento è città d'arte e di cultura, ma è anche sede del sito UNESCO, la Chiesa di Santa Sofia, nell'ambito della candidatura Italia Langobardorum. Quest'anno tra l'altro celebreremo il decennale a giugno, quindi a maggior ragione l'intervento di un'iniziativa come questa in cui sicuramente si parlerà anche della valorizzazione di un sito UNESCO e in particolare, quello di cui parlerò anche io nella mia relazione, della necessità e dell'urgenza di un piano di gestione integrata per la valorizzazione in generale dei beni culturali e a maggior ragione dei centri storici che costituiscono l'identità di una comunità.